Stavolta un numero l'ho sbagliato, ma ci vuole ben altro per stressare Aini Sutter. Anche a me se capita di sbagliare un rigore, sono momenti in cui bisogna dimostrare di avere carattere. Non è certo una cosa del genere a scombossolarmi. Continuare a confrontarsi con i numeri è importante. E poi, con 5 numeri esatti più il numero fortunato, ti puoi permettere qualcosa di carino. Ad esempio, un motorino come questo, no? Novità sui slotto. Vincite più ricche con 5 numeri esatti più il numero fortunato. Grazie.